Ho detto che non siamo indisponibili a un ragionamento su un ridisegno delle autorità portuali complessivamente in questo Paese, ma aspettiamo di vedere concretamente qual è la proposta su cui puoi discutere e discuterà immagino anche il Parlamento. La cosa che invece non sarebbe accettabile, e ho certezza che il Governo e il Ministro del Rio manterranno invece l'impegno, è quella della strategicità di un intervento, che è quello dello sbancamento di alcuni metri dei fondali, perché noi sappiamo che il porto di Ravenna, che in realtà è più giusto definire porto dell'Emilia Romagna, uno dei più importanti è l'Adriatico, ha bisogno di questo intervento perché permetterà l'ingresso di navi più grandi e quindi complessivamente un flusso di stoccaggio, container, merci, eccetera, ma più in generale un aumento della potenzialità di un porto, che è un porto importante, ripeto, per noi strategico. Mi pare che oggi la firma nel protocollo che abbiamo messo in campo insieme a RFI, al Comune di Ravenna, autorità portuale, per un intervento che io ricordo erano anni e anni e anni che si discuteva e che veniva promesso e che dopo tanti anni finalmente trova una sua concretizzazione nella firma, che vuol dire i lavori nei prossimi anni finalmente, è un intervento da quasi 23 milioni di euro e che quindi credo sia la dimostrazione, perché l'interconnessione con le infrastrutture, in questo caso ferroviarie, che possono andare verso i dorsali europei è decisivo, io credo che sia la dimostrazione di cosa vuol dire per noi l'impegno sul porto.